buon di oggi insieme dovrei vedermi insieme il mio percorso del 2019 su youtube il mio primo video l'ho caricato esattamente il 7 agosto ed era un video dove provavo a fare le derapate con la moto perché avevo appena preso la moto ma infatti fa schifo fa schifo però l'ho lasciato perché giustamente era il mio primo video il secondo video invece era con un mio amico dove ho fatto una serie di tre video su questa cosa qua abbastanza stupidi fece questi tre video sulle moto tutte offroad quindi tutte fuori dall'asfalto tutte stupide perché continuavo a cadere perché era una moto la strada la mia ma andavo ovunque perché ero stupido e cadevo dopo sono arrivato al mio quinto video dove mi erano un po girati e decisi di fare un viaggio a roma ho fatto il video dove parlavo di come come organizzato il mio viaggio poi avevo messo poi misi un altro video sempre in moto però stavolta con un altro gruppo e dove siamo andati a massa per poi arrivare al video che nel mio 2019 ha fatto più successo il mio viaggio a roma è stata un'avventura meravigliosa dove voglio dedicare un video in futuro dove parlo un po il dietro le quinte delle persone che ho conosciuto di il video dopo è stato molto carino con mia sorella dove siamo andati al ventasso siccome lei è imbranata ha riscosso un sacco di successo tu lo sai che dobbiamo arrivare solo là eh ti voglio bene an improvvisatissimo anche perché me l'aveva detto il pomeriggio a mezzogiorno alle due eravamo delle macchine che andavamo il video dopo era su io che pigiavo l'uva sì coi piedi dopo ho fatto una candela dove mia madre mi ha fatto una candela devi pulire tutto no davide culo così sono andato a monaco bellissimo 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 con gli amici per l'oktoberfest il video dopo un pomeriggio semplicissimo alla pietra di bismantolo poi ho fatto un video che avevo registrato mesi prima quando facevo le serie sulla moto all'inizio però l'ho caricato due mesi dopo dove abbiamo costruito una pista da cross e dove sempre cado porca miseria video dopo è stato quello sugli insetti dove ho assaggiato gli insetti facevano schifo poi feci un video di un weekend che abbiamo trascorso con la famiglia tranquillissimo al mare a novembre dove ho fatto il bagno da qui iniziai una nuova serie a far vedere quello che costruivo io ho sempre amato costruire ho costruito un canone sparapatate ho fatto vedere come lo costruivo come lo usavo poi ovviamente una sfida con mia sorella che decise lei io sono entrato in casa e mi sono subito questo video poi siamo arrivati all'ultimo video che ho caricato dove costruivo un razzetto ammetto che da l'ultimo video mi sono preso una breve pausa l'ho caricato il 6 dicembre e dopo non ho più fatto video per per vari motivi siccome dei video li ho fatti ma non li ho montati probabilmente i primi video di gennaio saranno cose di dicembre perfetto quindi non mi resta che salutare il 2019 per salutare il 2020 ciao